Risultato a sorpresa in questa settima giornata, la capolista brigata perde per 3-0 contro Iacchè, mancano ormai due minuti al termine della gara, con gli arancioni che hanno difeso bene la porta di giunta che ora si appresta a rinvio. La brigata un po' troppo nervosa, forse ancora risente delle fatiche di sabato, Lammretti adesso per l'Oiacono, l'Oiacono si gira ottimamente, avanza ancora l'Oiacono, il tiro è ancora giunta, miracoloso in questa giornata, il calcio d'angolo, Tavassi all'indietro per Iamuno, anticipato però da Ciranna che si invola in contropiede, c'è anche Ferraro in mezzo, Ciranna e Lammretti risponde da campione in faro laterale. Capitano Ferraro, autore dei primi due gol, la mette dentro, ancora Ambretti, poi l'Oiacono, Giavazzo fermato ancora, Iamuno, la brigata ci crede, ancora Iamuno, va in dribbling, fermato da Michele Ior, in faro laterale. Seguiamo fino alla fine il match, mancano pochi minuti, il tiro, attenzione ancora, giunta, un gatto quest'oggi, vero perfetto, pressa il rinvio, Matrecano di testa si alza un campanile, ancora Iamuno sempre di testa per Tavassi che non riesce a tenere il pallone in campo, forse sì, ma è sempre a beneficio di giunta, l'invio di giunta lunghissimo dove neanche Ferraro può arrivare, ultimissimo minuto di telecronaca e della partita, Giavunno fermato, l'Oiacono ancora in dribbling, ultimo uomo, l'Oiacono serve Tavassi che non controlla, la palla si spegne sul fondo, ancora giunta, guadagna qualche secondo, poi rinvia in avanti, la testa però di l'Oiacono, Giavunno non riesce a tenere il pallone in campo, Di Lorenzo può soffrire di una rimessa in gioco, stava la distanza, Di Lorenzo in avanti, Matrecano, ha un po' di spazio, Matrecano, serve Iamuno, attenzione, Iamuno è il silenzio sul fondo, ultimissimi secondi, ancora giunta con un po' di esperienza, guadagna qualche secondo, l'inviene avanti, sempre l'Oiacono di testa, poi Cidanna, Cidanna protegge bene la palla e poi va via, attenzione, ne ha menato, Cidanna subisce il fallo, seguiamo questo ultimo calcio di munizione e probabilmente della gara, confabulano Giorgio e Ferraro, è pronto, parte Ferraro, la parata di Ambretti, ancora Iamuno, via l'Oiacono, la palla, finisce la partita, prima sconfitta della palla.